Bisogna scegliere la vacanza giusta per poterla vivere al meglio e noi come ogni mercoledì abbiamo un esperto di vacanze, bentornato Roberto Mendone Buon pomeriggio a tutti e bentrovati Ben ritrovato a te, ricordiamo Roberto di Vagamondo Viaggi, insomma esperto di viaggi in particolare poi di quei viaggi belli che ti restano dentro e che per fortuna possono anche costare poco Costare il giusto diciamo Ecco ci sembra giusto, ci vuole, è il caso di dirlo perché sappiamo oggi internet, io dico sempre questa cosa, ha creato sì tante possibilità ma anche tanto scetticismo perché alle volte si va alla ricerca di certe cose, ti vengono presentate delle cose che poi possono essere diverse da quelle reali Allora io sono del parere che è sempre bene poi relazionarsi a chi il mestiere e soprattutto le località le conosce E' vero, è vero, è una grandissima verità, internet è un mare fondamentalmente e bisogna saperci navigare, non a caso penso che questo sia il verbo più accostato Azzeccadissimo proprio, ho conosciuto da sempre Più accostato ad internet e quindi di conseguenza invitiamo sì sicuramente ad informarsi, anzi delle recentissime ricerche hanno dimostrato come soprattutto in Italia per quanto riguarda il turismo in realtà internet sia il più grande, il più diffuso strumento di informazione Non è ancora il canale privilegiato per la vendita, ci si cerca di privilegere sempre l'intermediazione, le agenzie di viaggio, i tour operator e quant'altro Cioè praticamente mi informo su internet poi comunque vado dal tour operator Sì, di solito succede così, però noi cerchiamo di sensibilizzare gli utenti, gli ascoltatori in questo caso a informarsi su internet ma farlo anche attraverso le agenzie di viaggio Cioè non soltanto per la prenotazione ma anche in fase di informazione perché un piccolissimo concetto, un piccolissimo commento che tu puoi prendere, puoi trovare, puoi captare dal cliente Ti riesce a personalizzare la vacanza e quindi magari dalle sue esperienze precedenti puoi essere in grado di dargli il consiglio giusto da quello che gli è piaciuto o quello che non gli è piaciuto negli anni precedenti Esempio, se tu cerchi su Gallipoli, su Google, spiagge Gallipoli, spiagge Salento, ti appaiono queste distese stupende di sabbia bianca e di mare incredibile E' vero, è proprio così, però se ci prenoti ad agosto e ti presenti difficilmente riusci a mettere anche il telo mare Esatto, esatto Quindi è opportuno fare questa specifica, ecco, allora alle volte internet può comunque trarre, non dico in inganno, però dà una visione parziale Diciamo che quando si fa pubblicità e si sponsorizza qualcosa la si fa vedere sempre al meglio Io ti faccio vedere una spiaggia bellissima, quasi incontaminata, però insomma il 15 agosto è difficile che quella spiaggia così bella la trovi così incontaminata E oggi abbiamo dei consigli in particolare per coppie di fidanzati o di amici, insomma, un tipo di vacanza molto molto particolare, dove ci porti oggi? Io oggi parlerei di Zant, che è una delle best destination del momento, diciamo Sì, sì, è molto a vita Top seller, sì, assolutamente Sta andando veramente molto forte, anche perché è ben servita da Napoli con dei voli charter che collegano in poco meno di un'ora o poco più di un'ora all'isola E c'è una grande varietà di scelta, tante opportunità di vacanza, anzi noi spesso definiamo tante esperienze di vacanza Una volta arrivato a destinazione puoi fare di tutto, dalle spiagge stupende a una buona gastronomia, a una grande ospitalità Una vita notturna notevole che non ha nulla da invidiare a delle mete sicuramente un pochettino più gettonate, più blasonate, semplicemente come nome Ecco, ed è importante poi, vedi, anche, secondo me, dare queste informazioni Perché, per esempio, Zante può essere quella giusta scelta, sia se si è tra amici, che ci si vuole andare a divertire, rilassare Sia se si è in compagnia del proprio compagno, della propria compagna, per anche divertirsi, perché anche le coppie vanno a ballare Insomma, non è che non ci vanno E certo, tu calcola che quando arrivi su un'isola del genere, è come se avessi un menù davanti, no? Si è a cena con la fidanzata e puoi scegliere cosa prendere, nel senso Ok, stasera non si deve capire un amen, e quindi di conseguenza ho voglia di esagerare Andiamo a Laganas, ok? Ok Quindi c'è questa, la main road, che è piena zeppa di localini, a destra e a sinistra Con delle scene, io ricordo, l'anno scorso, nella mia prima sera a Laganas, in qualità di assistente turistico di un gruppo Girai venendo dal Cameo, che è un'altra spiaggia, una località molto bella Giro a sinistra, vedo improvvisamente del fumo che esce da un locale che era gente in strada Sembrava veramente, diciamo, la notte bianca H24 Bellissimo, ecco Ed è stupendo Però una coppia, così come sia di giovani che una coppia di fidanzati, tra virgolette Può decidere tranquillamente, ecco, di andarci a fare una serata, di andarci a fare due serate Oppure farlo essere semplicemente il punto di partenza Per poi, il giorno dopo, andare a Maratonissi, andare a Geracas, andare al Relitto Poi possiamo parlare tranquillamente anche nel dettaglio Perché anche delle spiagge si può decidere che tipo di spiaggia gradire Eh certo, ce ne sono tante, mi stavi facendo vedere anche delle fotografie E mi stavi assicurando che le foto non sono photoshopate, no? Non sono modificate E devo dirvi, ragazzi, ci sono dei colori veramente bellissimi Insomma, c'è un mare eccezionale che secondo me è quello ora Indipendentemente dal tipo di vacanza che vuoi fare Sia che vuoi fare la vacanza scassone, come si dice Sia che vuoi fare la vacanza romantica Però se vai a mare, devi starci bene Cioè, deve essere un gran bel mare Quello poi che secondo me è il ricordo più grande che ti porti a casa E' determinante E' determinante Allora, capiamo anche un po' meglio come articolare questa vacanza I nostri ascoltatori sicuramente vogliono sapere qualcosina anche sui costi Oggi chi sentiamo? Oggi possiamo sentire Fabio, viaggiuniversitari.it Fabio, ci sei? Sì, ciao Ecco là, buongiorno Fabio, ben ritrovato Viaggiuniversitari.it Vogliamo subito dire che non sono viaggi rivolti solo agli universitari? Sì, praticamente abbiamo scelto questo naming dell'azienda Semplicemente per identificare il target Cioè i ragazzi giovani che hanno voglia di divertirsi E che fondamentalmente non hanno un grandissimo budget di spesa E questo ci ha portato alla scelta appunto del naming aziendale Tuttavia comunque la maggior parte dei nostri ragazzi Frequenta l'università, questo sicuramente da dire Però anche se io non frequento l'università e ormai sono quasi un vecchiaccio di 32 anni Insomma posso pronotare da voi, no? Con grande piacere Hai visto? Alla grazie, così mi sento giovane dentro, capito? Assolutamente, ma a 32 anni credo che ci sia ancora giovane Altrimenti dovrei categorizzarmi anche io tra i vecchi E l'università che bella che è andata, capito Fabio? Quello è il problema Allora stiamo parlando di Zante insieme anche a Roberto E volevamo capire un po' meglio una coppia di amici o una coppia di fidanzati Che possibilità di offerta trovano Guarda, ti parlo direttamente della settimana centrale di Ferragosto Che è sicuramente la più cara Ma comunque a un prezzo sicuramente accessibile Stiamo parlando di un pacchetto di 610 euro per persona Con volo, andate e ritorno da Napoli Trasferimento da e per aeroporto E studios per due persone Nella zona di Laganas Proprio a due passi dalla main road Quindi per avere il divertimento a portata di mano Per quanto riguarda invece le altre settimane Abbiamo sicuramente di prezzi un pochettino più bassi Fino ad arrivare ai 445 euro per persona Della 26 agosto 2 settembre Si tratta comunque di ultimissime disponibilità Ho parlato del Ferragosto perché sono gli ultimi 4 posti Dopodiché dichiareremo il sold out Mentre per quanto riguarda le altre settimane Abbiamo disponibilità varie Tra i 5, 6, 8 posti rimanenti Insomma siamo addirittura d'arrivo Però devo dire che la settimana di Ferragosto 610 euro Una settimana comunque Con tutte le cose che hai detto tu È un affare Si, sicuramente abbiamo un ottimo rapporto qualità-prezzo Considerando il volato da Napoli Con bagaglio da stiva e bagaglio a mano Mi preme sottolineare questa cosa Anche perché Zante è un prodotto Che noi proponiamo esclusivamente con volo In quanto proporlo con nave sarebbe barbaro Perché si tratta di oltre 24 ore di viaggio Non è come Corfu che è più a portata di mano Zante bisogna scendere e scendere di più E quindi puntiamo anche alla qualità della vacanza Che i ragazzi arrivino non distrutti E si possano godere al meglio le sette notti C'era uno slogan famoso che diceva La vacanza inizia dal viaggio Non ricordo chi lo diceva Però è vero Quindi insomma se vogliamo prenotare anche Questa vacanza Avere maggiori informazioni Come possiamo fare? Allora si può avere maggiori informazioni Visitando il nostro sito Viaggiuniversitari.it Oppure chiamando il numero 081-23-52-696 Allora io già tanto so che abbiamo beccato I nostri amici all'ascolto Che stavano Ma aspetta fammi segnare il numero Puoi ripeterli per favore? Certo 081-23-52-696 Ovviamente noi abbiamo fatto l'esempio di Zante Però credo Roberto ci siano anche altre offerte Sì Viaggiuniversitari.it propone un ventaglio di destinazioni abbastanza ampio E' chiaro che E' per fortuna insomma Essendo verso fine giugno Praticamente la scelta si è limitata Adesso ha pochissime disponibilità Noi abbiamo Corfu Che è già totalmente in stop vendita Da un po' L'isola di Pag ha qualche altro posticino Mentre per quanto concerne invece Budva Di cui avremo modo di parlare magari prossimamente Perché è una destinazione che merita Per tutti i tipi di vacanzieri Per tutti i tipi di turisti Quindi magari merita un approfondimento a parte E allora Viaggiuniversitari.it Grazie Fabio Grazie dei tuoi consigli Buona giornata Grazie a voi Buona giornata E buon proseguimento a tutti E poi della sede Roberto scusa Alla faccia della crisi che c'è nel mondo del turismo Insomma eh Voglio dire Comunque se cerchi trovi le offerte La vacanza si vende Ti racconto il segreto però adesso Allora se è vero che adesso è più difficile trovare posto È anche vero E questo lo dico insomma da attento osservatore delle dinamiche del settore Che rispetto a prima era molto un po' più facile In passato era un po' più semplice trovare disponibilità last minute Quindi il prezzaccio no? Sì I clienti entravano in agenzia a gennaio E chiedevano il last minute C'è qualcosa che non va Se vuoi partire il 15 agosto devi prenotare il 14 insomma Funziona così È entrata nella testa delle persone questo tipo di concetto Gli operatori anche in virtù diciamo della riduzione del volume d'affari Che cosa hanno fatto? Hanno iniziato ad acquistare meno posti E quindi di conseguenza è davvero difficile che ci saranno i veri last minute Sai quelli di un tempo la vacanza a 300 euro Perché ricordiamo il last minute era quel posto che avanzava proprio alla fine Roberto ti interrompo solo un attimo perché diamo spazio un attimo alla pubblicità Poi torniamo a parlare perché non solo facciamo una panoramica sul mondo delle villaggi Delle vacanze più che altro e dei viaggi Ma avremo particolare attenzione per le famiglie Restate con noi De Gustibus A me piace Stavamo parlando di Zante Roberto Sì stavamo facendo un pochettino una panoramica sull'isola Esatto io ho chiuso tutte le pagine internet che avevi aperto Vabbè Però insomma abbiamo dato anche un bel po' di notizie relative ai costi C'è questa offerta molto importante la settimana di Ferragosto 610 euro tramite viaggiuniversitari.it Quindi pochissimi posti ancora E poi ricordiamolo se volete attraverso viaggiuniversitari.it Trovate altre offerte veramente importanti Altra cosa che ricordo è che viaggiuniversitari.it Sì ha dei prezzi e dei modus operandi per le vacanze in riferimento agli universitari Ma sono vacanze aperte ovviamente a tutti Perfetto poi su Zante dai dammi proprio l'ultima chiesa L'imperdibile a Zante cosa? Imperdibile non è facilissimo da individuare a Zante La stragrande maggioranza delle persone posta su Facebook, sui social Appena arriva lì fa la prima escursione o tra le primissime il relitto È una spiaggia che è stupenda che si trova in una zona molto molto particolare I colori che vedete online dalle foto sono reali Per la presenza in acqua di grotte su fure Che fanno sì che il mare sia di un azzurro turchese È opportuno dire anche il rovescio della medaglia Che alle volte andare in questa spiaggia, su questa spiaggia Può comportare qualche problemino in termini diciamo di mal di stomaco Mi spiego meglio Si Si trova in un punto molto particolare dell'isola Per cui si congiungono diverse correnti Per cui le imbarcazioni che arrivano soprattutto nei tratti di rientro Il pomeriggio beccano il mare grosso Nell'anno scorso abbiamo fatto delle bellissime escursioni Ma in una abbiamo beccato praticamente il mare grosso dall'inizio fino alla fine Quindi i ragazzi hanno goduto sicuramente del bellissimo panorama Però hanno sofferto un pochettino il viaggio Quindi affidatevi anche in loco agli smartphone Per dare uno sguardo magari a quelli che sono le condizioni meteomarine Ok quindi vedi consigli utili anche per visitare Zante Abbiamo dato consigli per la vacanza Coppia di amici, coppia di fidanzati Però torniamo su un tasto dolente Torniamo sulla vacanza per famiglie Perché oggi è vero che le famiglie possono avere qualche problema in più A muoversi 4-5 persone insomma Potrebbe non essere semplice Ma noi abbiamo delle soluzioni Perché ci sono delle offerte molto vantaggiose anche per le famiglie Sì sì molto interessanti Se possiamo approfittare Io magari mi anticipo una ricerchina che mi ero già appuntato da fare oggi pomeriggio in ufficio Ho avuto questa mattina una richiesta per due adulti e due bambini Per partire la settimana 5-12 luglio Dovrebbe essere il sabato-sabato o domenica-domenica Non ricordo bene Avrei dovuto chiamare nel pomeriggio l'agenzia che per me il tuo operator rappresenta un po' il punto di riferimento Sì Sotto questo punto di vista Cioè per chi è in famiglie Le famiglie che vogliono partire e che vogliono fare una vacanza a buon prezzo Ecco e di chi si tratta? Leoga viaggi Gabriella di solito mi interfaccio sempre con lei Ciao Gabriella bentrovata Buongiorno a tutti bentrovati Allora Gabriella Questa ricerca di Roberto La facciamo in diretta adesso L'hai già sentita? Ripetimi la data Roberto Allora dobbiamo fare io alle 16 devo fare questa telefonata e devo dare al potenziale ospite una soluzione adeguata Abbiamo due adulti e due bambini 5-12 agosto Loro mi parlavano di soggiorno in residence Agosto o luglio? Scusami luglio luglio, ho sbagliato Mi parlavano di soggiorno in residence Però ho letto dalle tue offerte Che alla fine praticamente la pensione completa Non dico che costi tanto Ma siamo lì Diciamo che sono dei prezzi molto competitivi Facciamo fare una vacanza anche alla mamma Che non cucina no? Eh beh sì Anche le mamme hanno diritto a fare vacanze Dichiarazione femminista Insomma voglio dire la vacanza vera è quella Eh certo perché mi sa che cucina sempre Gabriella Eh insomma Aiutami tu dai Allora noi abbiamo una bellissima offerta al Dolomiti sul mare Che è sul tratto bellissimo calabrese di Briatico Vicinissimo a Topea Quindi a sud giusto? Sì sì Sud Calabria ok E parliamo di un'offerta vantaggiosissima 825 euro due adulti più un bambino Ed oggi anche il secondo bambino In pensione completa Regaliamo anche le tessere club Cioè aspetta 825 era una famiglia di quattro persone Cioè non 825 a persona 825 tutte e quattro le persone Tutte e quattro le persone Avevo letto bene Avevo letto bene Avevi letto bene Abbiamo pochissime camere ancora E le stiamo praticamente vendendo a questo prezzo Proprio per avvantaggiare le famiglie È finita la scuola I bambini vogliono andare al mare E quindi li mandiamo al mare così Anche perché ricordiamo che la vacanza a luglio non va assolutamente denigrata Va incentivata Va incentivata perché le spiagge non sono affollate Perché c'è il vantaggio di poter fare una vacanza low cost veramente Il costo di un residence invece viene speso per una vacanza tutto compreso No è incredibile, è incredibile davvero Anche perché la vacanza di luglio praticamente Ti vai alla qualità delle strutture più elevata Per il semplice fatto che c'è meno occupazione Quindi di conseguenza i ragazzi Anche il personale, lo staff di animazione Così come il personale di sala È ancora diciamo bello fresco È pronto a fare ospitalità Ad agosto invece sebbene ci sia una formazione molto forte Comunque la stragrande maggioranza delle strutture Riesca a rispettare gli standard Comunque la stanchezza inizia a farsi sentire Poi c'è tantissima gente, si sa che si possono incorrere un po' Non negli inconvenienti Però insomma magari ecco a luglio hai sicuramente una situazione un po' più tranquilla Proprio più a dimensione famiglia Gabri scusami io quindi stavo prendendo nota Quindi due adulti e due bambini in pensione completa 5-12 Sì, se ti non volessi allontanarsi Roberto Abbiamo anche l'hotel delle stelle a San Ginetto Quindi Alta Calabria un po' più vicino alla Campania Ah perfetto La stessa formula addirittura te la posso dare Anche per la settimana 19-26 luglio Due adulti più due bambini Fino a 14 anni Wow Ad 870 euro Ed anche a un prezzaccio Sempre per tutte e quattro Regaliamo anche la tessera Club qui Quindi nulla da pagare neanche in loco Assolutamente nulla Quindi ragazzi davvero delle offerte eccezionali per le vostre vacanze di luglio Io mi permetto di dare anche un altro consiglio È vero che la vacanza a luglio la possiamo incentivare anche per il semplice fatto che Ad agosto ormai le città comunque organizzano tante cose Sono molto più vivibili Sono molto più vivibili Due adulti più un bambino questa volta a 3-12 anni pagano soltanto 970 euro al Blue Serena Al Blue Serena Tessere Club incluse Ok quindi è una struttura che è veramente a altissimo livello Prezzo veramente ottimo Allora Gabriele tu ci stai sentendo anche con la radio per caso Perché ogni tanto abbiamo dei ritorni pazzeschi Sì vi sento No no non vi sento con la radio Vi sto sentendo al telefono Ok ok perfetto Allora Gabriele Le offerte incredibili Ricordaci velocemente i tuoi contatti per poter prenotare queste offerte Noi siamo in Piazza Cavour 9 Il nostro telefono è 081 557 1101 Ok quindi in Piazza Cavour si raggiunge facilissima Centralissima Centralissima insomma anche con la metropolitana O i Pullman Ovviamente abbiamo anche le tariffe per agosto vantaggiosissime Anche con le famiglie Per chi non può andare in vacanza a luglio Ce n'è per tutti i gusti e per tutte le date E allora le andiamo a trovare Gabriele Che dici Roberto? Immediatamente mi fiondo Lea Gaviaggi grazie Grazie Gabriele Buona giornata a te e Roberto Anche oggi abbiamo dato veramente tantissimi consigli per le vacanze Per i più giovani, per le famiglie insomma Ma andarci solo noi in vacanza fra poco Noi andiamo un pochettino più in là Più in là esatto Siamo quelli che le vacanze le fanno dopo Perché vogliamo permettere a tutti quanti voi di vivere appieno la vostra vacanza Che ci sembra la cosa più importante Radio Amore Napoli